Ma sei impazzito, ti bucchi proprio qui che ti vedono tutti. Che mi frega, se stavi al posto mio che entro ed esco da Regina Celi, non te ne fregava. Io me ne frego di tutto tranne della rovina, e la mia rovina mai buona. Da quanto ti droghi? Da quando facevo il carrozziere, era l'estate di cinque anni fa. Ah, avevo le balle piene di sfaticare per due soldi, adesso le macchine le rubo. E dopo che farai? Se fossi capace mi taglierei la testa, ma forse prima mi taglierei il cazzo, perché è nel cazzo che mi buco per far arrivare prima l'eroina. Commento. Anche la scelta del tipo di droga è l'espressione matematica del grado di evoluzione di chi si droga. L'eroina, ad esempio, assicura una maggiore fuga dal piano fisico e prova una minore evoluzione di chi l'assume.